Il Veneto continua a combattere con il maltempo che dopo aver paralizzato il Vicentino si è accanito su tutto il Padovano e il Trevigiano. I comuni interessati dagli eventi calamitosi di questi giorni arrivano addirittura a 121, mentre gli sfollati sono oltre 3.000. Le zone più colpite, come ha confermato lo stesso capo della protezione civile Guido Bertolaso, il quale ha già assicurato che al più presto in Consiglio dei Ministri verrà dichiarato lo stato di emergenza, sono quelle tra San Bonifacio e Soave nel Veronese e il centro di Vicenza e Caldogno. dove un cittadino è tuttora disperso. Resta ancora interrotta intanto la circolazione sulla A4 in entrambi i sensi di marcia, tra Montebello in provincia di Vicenza e Soave, causando code di oltre 12 chilometri. Le scuole rimangono chiuse, le centrali elettriche degli istituti devono ancora essere ripristinate e alcune famiglie sono ancora bloccate nelle proprie case dall'acqua. Nel Padovano la situazione non è migliore, infatti ben 5 località sono allagate o isolate. Il governatore Luca Zaia ha già provveduto a stanziare 2 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza che ha causato danni, stando ad una prima stima per oltre 100 milioni di euro. Questa mattina lo stesso governatore Zaia ha inviato una lettera al presidente Silvio Berlusconi, chiedendo che il Consiglio dei Ministri intervenga immediatamente decidendo uno stanziamento straordinario per aiutare l'economia veneta a risollevarsi. L'impegno delle istituzioni, dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine, dell'esercito e della protezione civile ha aggiunto Zaia nella lettera, hanno scongiurato il peggio, ma tutto questo unito alle ordinarie risorse non basta risollevare l'economia veneta che nemmeno nella storica luvione del 1966 fu sottoposta a un tale sforzo. Nel frattempo lo stesso Zaia, intervenendo oggi in Consiglio regionale, ha annunciato che scriverà una lettera anche ai parlamentari veneti per sensibilizzarli sulla necessità di ottenere dei fondi straordinari per riparare i danni devastanti causati dal maltempo.